Vediamo adesso nel dettaglio i nostri artisti in vetrina. Sara Allegretti è giovanissima, è nell'età in cui si può ancora dire l'età dell'universo femminile, 27 anni, tutta la vita era avanti e ha cominciato a dipingere chiaramente a liceo artistico. Poi si va avanti, ci sono delle incertezze, lei ha ripreso pienamente pennelli e colori durante il periodo della pandemia, durante la quarantena. Che poi non c'è cosa più bella per un uomo che si vede vietato il contatto sociale, obbligato al distanziamento, che avvicinarsi, contattare il mondo, l'universo, le emozioni concretamente con la propria espressività. Innamoratissima Sara del Rinascimento, degli artisti del Rinascimento, dice in fondo un po' come loro, mi sono abituata a dipingere quello che le persone, gli amici, i committenti chiedono. Quindi l'idea di arrivare all'opera anche per commissione, perché mi viene suggerita, perché mi viene richiesta. Cominciamo subito con un primo quadro che è molto chiaro, esplicito in questo senso. È un quadro di Ciro Salvo, un pizzettaro, il pizzettaro della pizzeria a 50 calò. Salvo sta là, fuori del tempo, sta preparando per la precisione una pizza margherita, ha il basilico in mano. Come sapete che la pizza margherita fu un omaggio della pizzeria di Ciro a Napoli per la regina margherita, parliamo ancora dell'Ottocento, della fine dell'Ottocento. E l'idea di arrivare al tricolore con la mozzarella, la pomarola rossa e il verde del basilico. Tutto questo è come se Sara riuscisse modernamente a raccontarle, poi con questa espressione divertita, autironica di Salvo, di Ciro Salvo. Lei ama le figure intere, in questo è rinascimentale, ama proprio la positura piena. L'idea di A gioia, che il quadro racconti molto più anche di una fotografia. Perché una posa fotografica assume Arnold Schwarzenegger, molto giovane devo dire. Schwarzenegger è, sappiamo, un divo, un eroe cinematografico di filitazione, palestrato, dove tutto è corpo, tutto è muscolo, tutta è energia. E lei lo mette al centro di tutto, con questa muscolatura gonfia, eccetera. E un po' si diverte anche con autironia, secondo me, da donna a sfottere l'imprinting muscolare, meramente muscolare di Schwarzenegger. Che poi, peraltro, ha avuto tutta una sua carriera complicata, ulteriore, è stato perfino governatore della California. Gli anni passano, chissà che poi, magari, il cedimento fisico, dall'altra parte, non nasconda un incremento di saggezza. Chi lo sa. Però lei, la Sara, con i suoi oli su tela, perché sono oli su tela, perfettamente lo racconta. Ma arriviamo al terzo quadro. Il terzo quadro è quello più intrigante, che mi ha personalmente colpito di più. Il titolo è Noi e la tigre. Intanto cominciamo col dire che c'è noi, noi, una coppia, una paramenta autobiografica, con questa tigre davanti. Noi e la tigre vuol dire tante cose, insomma. La tigre che è noi, la tigre che abita con noi, è una metafora, chiaramente. Non parliamo della famiglia Orfei, che erano domatori proprio per Antonomasia. E poi c'è questo sfondo esotico, con palme, con questo verde che sembra preso da Russo il doganiere. Insomma, sono quadri dove l'esotismo diventa materia contemporanea, diventa un quotidiano. Questa bellissima tigre. E la tigre è, si capisce, lui sta là fuori con un sorriso ironico e anche bello, insomma, con una bella posa coniugale, diciamo così. E lei accarezza questa tigre. Quindi qualunque psicocritico, qualunque bravo psicologo dell'arte, ti direbbe che la tigre è la parte essenziale di lei, di se stessa. Cioè, lei si sente donna tigre, o vorrebbe esslo, o per lei sarebbe un mito, sarebbe un sogno inseguito. E con affetto, vedete come la posa è domestica, è familiare, insomma. La tigre è una specie di cucciolotto di gatto, ritrovatosi tigre, che ha ancora le pose dolci, le pose di un cucciolotto. Non certo la ferinità della tigre. Questa tigre ha gli occhi chiari, si compendono perfettamente con lo sfondo. Diciamo che questo, secondo me, a tutt'oggi, per Sara, è il quadro più forte in cui ha messo qualche cosa di sé. Che non è quello di Ciro e che non è neanche Schwarzenegger. Credo che il meglio Sara possa darlo guardando ancora dentro se stessa, investigando, riuscendo a liberare la giovane donna che lei è, con ironia, con abilità, in modo da fermare il tempo in una rinascenza, in un'idea di rinascimento che non ha fine. L'idea che l'arte debba essere una parte del nostro vivere, della nostra forma mentis, della nostra educazione al bello, alla bellezza. Quindi non è più un'arte da usare, ma è un'arte che ci abita, che noi abitiamo, che fa parte di noi. È il nostro habitat, è il prolungamento del nostro habitat. Veramente, nelle nostre case, io credo che abitino tranquillamente delle tigri. Andrea Anderle è il nostro habitat al bello, alla bellezza. Quindi non è più un'arte da usare, ma è un'arte che ci abita, che noi abitiamo, che fa parte di noi. È il nostro habitat, è il prolungamento del nostro habitat. Veramente, nelle nostre case, io credo che abitino tranquillamente delle tigri. Andrea Anderle ha un percorso molto interessante. È vero che molto spesso l'arte...